Buongiorno, benvenuti al Dongo Stadium. Settimo turno di seconda categoria, Girone X. Bormiese, Sport Club Dongo. Agli ordini del signor Donadelli, della delegazione di Sondrio, scenderanno in campo le seguenti formazioni. Bormiese, Rocca Luca, Giacomelli Alessandro, Paganini Luca, Montini Davide, Zappa Giuliano, Occhi Luca, Viviani Davide, Alberti Tommaso, Capelli Dimitri, Berbeni Francesco, Cusini Davide. A disposizione, Lanfranchi Edoardo, Martinelli Giovanni, Verona Massia, Gasperi Riccardo, Martinelli Mani, Compagnoni Federico, Zampol Francesco, allenatore signor Menegoro Davide, Sport Club Dongo. Arriva! Grazie a tutti. 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 . 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 Dalla azione comunque Va ragazzi, vai! Gaslo! Grazie! Grazie! E' buona, eh? E' buona! E' buona, eh? E' buona! E' buona, eh? E' buona, eh? E' buona, eh? Ah, non eravamo! E' buona, eh? Oh! Grazie a tutti. 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 5 a tutti. 5 a 4. Grazie a tutti. Grazie a tutti.